Non si fermano le truffe ai danni di anziani e per fortuna molte vengono sventate, come accaduto nel caso di una nonna di 94 anni di Cagliari, raggiunta telefonicamente da una ragazza che si era finta carabiniere e chi le aveva fatto credere che la nipote era stata arrestata. Per risolvere la vicenda era necessario pagare una cauzione. La nonnina non ci ha pensato due volte e ha consegnato 2.000 euro in contanti e gioielli di famiglia per un valore di 300.000 euro alla donna presentatasi a casa. I carabinieri sardi, dopo aver analizzato le immagini della videosorveglianza dell'abitazione dell'anziana del porto di Cagliari, in sinergia con i militari di Napoli centro, hanno individuato la criminale che si imbarcava sul traghetto alla volta del capoluogo campano. Tra le centinaia di passeggeri che sbarcavano a Napoli, i militari hanno bloccato e perquisito la donna e rinvenuto la rifurtiva. La ragazza di vent'anni è stata condotta nel carcere di Secondigliano. Il bottino sarà restituito alla legittima proprietaria nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.